Benvenuti e benvenute nell'appuntamento, ormai direi già un classico, in cui mi copro di ridicolo mostrando le mie gravi lacune su storia e cultura americana. C'è già stato un appuntamento di questi match game che mi dicono si trovi proprio qua, ma anche altri video di questo canale che ormai partevano da un po', tipo quelli che trovate qua. Ha funzionato questa cosa? Mentre la scorsa volta stavo cercando di individuare, di indovinare da singole immagini degli stati americani, cercherò di indovinare dei presidenti americani. Io non ho mai visto le immagini che adesso vedremo insieme e quindi da questa immagine proverò a risalire al presidente in questione, partiamo con la prima. Dunque, non conosco quest'opera e questo quadro, e qui forse potrebbe esserci già, diciamo, la prima grave lacuna, però le bandiere ci mostrano che questa è la guerra di secessione. Da una parte abbiamo le bandiere degli Stati Uniti, dall'altra la famosa famigerata bandiera confederata e quindi questa è una scena della guerra di secessione, una battaglia, la più importante e famosa fu quella di Gettysburg, non so se sia proprio questa, il presidente e Abraham Lincoln, che era il presidente degli Stati Uniti durante la guerra di secessione, guerra che fu dichiarata dagli Stati del Sud che temevano che quelli del Nord volessero abolire la schiavitù. Quelli del Nord però non volevano che il paese si separasse anche per ragioni economiche e soprattutto volevano che la schiavitù fosse sempre più regolata fino a magari eliminarla. Durante la guerra di secessione le truppe del presidente Lincoln e il presidente Lincoln non solo ottennero delle grandi vittorie, ma di fatto maturarono la convinzione che fossero maturi i tempi in quel momento per abolire la schiavitù. E nel discorso famoso di Gettysburg, non so se è quello di questa battaglia, il presidente Lincoln fa questo discorso brevissimo, sono tipo 12 righe e dice in sostanza noi non possiamo limitarci a vincere questa guerra per evitare la secessione, cioè che un pezzo di America si stacchi. Noi questa guerra la vinciamo davvero se restituiamo un governo che sia un governo per tutte le persone americane, quindi inteso anche per gli schiavi. Questo è il presidente Roosevelt e Franklin dell'anno Roosevelt, poi c'era anche Theodore Roosevelt. For a New Deal, New Deal era il nome delle riforme che contribuirono a far uscire gli Stati Uniti dalla gravissima crisi economica del 29. Ho un aneddoto su Theodore Roosevelt, l'altro, però me lo gioco adesso, magari poi esce dopo Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, l'altro Roosevelt, si riconosce e si ricorda più facilmente intanto perché, al contrario di Franklin dell'anno Roosevelt, è uno dei quattro che sta sul Monte Rushmore, sapete il Monte Rushmore? Si chiamava Theodore, soprannominato Teddy, e questo è il motivo per cui ancora oggi in America si parla di Teddy Bear quando si parla degli orsacchiotti, perché Theodore Roosevelt era un appassionato di caccia. La leggenda vuole che una volta si trovò davanti un cucciolo di orso. Lui preferì non ucciderlo e quindi tornare a casa a mani vuote, cosa piuttosto umiliante. La bontà di Theodore Roosevelt, di Teddy Roosevelt, fece sì che gli americani, gli orsi, gli orsetti li chiamassero Teddy Bear e ancora oggi gli orsetti di peluccio si chiamano in inglese Teddy Bear. Mi sono giocato questo aneddoto supplementare per compensare al presidente che inevitabilmente non saprò. Questo chi è? Dallas Police. Questo è l'uomo che ha ucciso John Fitzgerald Kennedy, suppongo. Sì, taglie, meno male. Lee Harvey Oswald, che uccise Kennedy nel novembre del 63, 64? 63, credo. 63. Lo uccise sparando dal quarto piano di una libreria che dava su una strada su cui il presidente Kennedy sarebbe passato con la sua macchina presidenziale. Fu trovato poco dopo, fu arrestato e fu anche ucciso in realtà qualche giorno dopo, mentre la polizia lo portava, lo trasferiva da un commissariato a un altro. un uomo molto agitato e turbato dall'assassino di Kennedy, riuscì ad avvicinarsi a lui e gli sparò. E queste immagini, peraltro, sono disponibili, sono pubbliche perché la polizia aveva organizzato una passeggiata piuttosto spettacolare, diciamo, a favore dei media per mostrare, vedete, l'abbiamo preso, l'abbiamo arrestato e fu in quella circostanza che Lee Harvey Oswald fu ucciso. Allora, questo credo proprio che sia, ma di questo devo dare il merito se riconosco questa foto al direttore del posto, Luca Sofri, che è molto appassionato di questo luogo, che è il Watergate. Watergate è un complesso residenziale di Washington DC. Watergate porta sull'acqua perché è messo sul Potomac, che è il fiume che attraversa Washington, lo vedete già qui nella foto. In questo complesso residenziale, durante l'amministrazione Nixon, c'erano degli uffici del Partito Democratico e qualcuno si infiltrò in questi uffici per posizionare delle cimici, intercettare le conversazioni, per rubare dei documenti, vennero scoperte queste persone. Fu chiaro dopo un po' che queste persone lavoravano per conto di qualcuno alla Casa Bianca, forse per conto del presidente Nixon, nacque da qui il caso Watergate, che poi portò alle dimissioni di Nixon, il primo presidente americano di sempre, l'unico finora a essersi dimesso nel corso del suo mandato. Oh, bello, lui il presidente Gerald Ford, che ha una grande storia, con la regina Elisabetta. Ford, sapete perché, ha una grande storia? Perché è l'unica persona che è diventata presidente degli Stati Uniti senza aver mai preso un solo voto, senza essersi candidata alla presidenza, senza aver fatto però nemmeno come fa Frank Underwood, cioè non è che ha ammazzato della gente per diventare presidente. Quando Nixon era presidente, ne parlavamo poco fa, il suo vice si chiamava Spiro Ecnew. Se Nixon era uno un po' disonesto, Ecnew molto di più, uno che già prima che arrivasse alla Casa Bianca si sapeva, si pensava che avesse degli affari un po' loschi, tanto che poi vengono fuori questi affari loschi, Ecnew è costretto a dimettersi. Nel caso si dimetta un vicepresidente non è che si va a votare per qualcun altro o che lo speaker della Camera diventa vicepresidente. La legge prevede che sia il congresso a scegliere il nuovo vicepresidente. Scelse Gerald Ford, che divenne così vicepresidente senza essersi candidato alle presidenziali con Nixon. Quando poi Nixon si dimette, Ford diventa addirittura presidente e lui non era mai stato candidato né alla presidenza né alla vicepresidenza. Era un uomo diciamo piuttosto semplice, questa era sia la sua forza che la sua debolezza in politica, quando doveva raccontare appunto la sua personalità diceva io sono Ford, non sono Lincoln, che è un modo anche per giocare con i marchi delle automobili americane. La Ford è un'utilitaria, una macchina popolare, Lincoln non è soltanto il cognome del presidente Lincoln, il più grande presidente della storia degli Stati Uniti, ma anche il marchio di un'automobile molto di lusso in America. Yes we can, sono quasi offeso che ti abbia messo questa immagine qua, perché yes we can il presidente, no, lo slogan del presidente Obama ha coniato in modo anche abbastanza casuale durante le primarie del 2008, durante un comizio, peraltro New Hampshire, lui credo avesse perso quelle primarie, eppure durante il comizio che fa per commentare quella sconfitta parte questo coro, anche seguendo lo speech del suo discorso, yes we can, yes we can diventa un grande motto, anche perché qualche settimana dopo esce un videoclip di una canzone fatta da Will.i.am, quello dei Black Eyed Peas, con tanti VIP vari che cantano questa canzone nel cui ritornello è yes we can. Caspita, questa non si può sbagliare, questo è New York, l'11 settembre del 2001, sono gli attentati alle torri gemelle di New York, parte dei più ampi attentati di quel giorno anche in altri posti degli Stati Uniti, il presidente era notoriamente il presidente George W. Bush. Quegli attentati non hanno soltanto cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo, ma hanno cambiato anche la storia stessa della presidenza di Bush, che era arrivato alla Casa Bianca con una piattaforma politica e delle idee, delle promesse piuttosto isolazioniste rispetto all'impegno americano in giro per il mondo. Bush aveva molto criticato Clinton per il suo intervento nella guerra in Euroslavia, o perché si era detto pentito di non essere intervenuto in Rwanda. Bush disse basta intervenire in altri paesi, basta farci gli affari di altre nazioni, concentriamoci sul nostro paese, dopo l'11 settembre, come sapete, cambiò decisamente linea. Allora, lui è Eisenhower, giusto? Generale dell'esercito, immagino durante la Seconda Guerra Mondiale, di Eisenhower però non so moltissimo in termini di aneddoti, se no che il suo nome, soprannome era Ike e quindi un suo slogan piuttosto popolare quando era candidato era I like Ike. We the people of the United States, eccetera eccetera eccetera, questa è la Costituzione, il preambolo della Costituzione, perché poi ci sono i vari articoli, questo è il preambolo della Costituzione, chi era il Presidente americano quando si firmò la Costituzione americana? Era naturalmente George Washington e con lui c'erano tra i vari padri fondatori altri che sarebbero poi diventati Presidenti, Madison, Adams per esempio e non solo. Questo è un fungo atomico che associamo tristemente alle parti finali della Seconda Guerra Mondiale, il Presidente americano che scelse di lanciare le due bombe atomiche sul Giappone, su Hiroshima e Nagasaki, fu il Presidente Truman. Ammazza, qui se sbagliavo la mia professoressa di storia mi uccideva. Presidente Truman, li beccati tutti? Li beccati tutti, ragazzi? Allora, lui lo so non solo perché fu il cane degli Obama, è morto peraltro, si chiamava Bo, questo cane, c'era tutta questa gag durante la campagna presidenziale degli Obama per cui le figlie di Barack Michelle Obama avrebbero moltissimo voluto un cane, ma fino a quel momento i loro genitori gli avevano detto scordatevelo, non possiamo permetterci un cane, chi lo accudisce poi eccetera. Quando poi è cominciata la campagna elettorale, anche per far accettare alle ragazze diciamo l'assenza del padre e anche della madre, tutti questi viaggi in giro, la loro vita pure fu travolta da quella campagna elettorale, gli dissero se vinciamo le elezioni gli prendiamo un cane alla Casa Bianca. Solo che per ragioni diciamo di allergie, poi non è stato facile scegliere questo cane. Quello lì è un cane che per il tipo di razza va bene per le persone che hanno allergie verso il pelo dei cani e quindi Bo fu il cane della famiglia Obama, il primo cane della famiglia Obama alla Casa Bianca, poi c'è anche una cagnetta se non sbaglio della stessa razza, Bo dalle iniziali Barack Obama. Non risponde, basta, mi indigne. Sapete che avevo questo cappellino Make America Great Again, comprato diciamo durante la convention del Partito Repubblicano del 2016, cappellino reso noto da Donald Trump, però mentre altre cose posso anche andarci in giro con la maglietta di un candidato anche un po' vintage. Andare in giro col cappellino di Trump non è sempre visto come un gesto da appassionato di politica americana o come un gesto ironico, quindi sta diciamo nella cassaforte dei cimeli e sta lì. Lei è Monica Lewinsky, che finì al centro di un grossissimo scandalo mediatico, più che politico, durante l'amministrazione Clinton. Era una stagista alla Casa Bianca che ebbe una relazione per Clinton extraconiugale, lei era una giovane ragazza, alla Casa Bianca, quindi non solo con Clinton, ma nello studio ovale che diventò uno scandalo pazzesco, non solo e non tanto per la morbosità del seguire questa relazione in sé, scoprire che Clinton aveva mentito, trovare gli indizi di questa relazione, ma appunto perché Clinton mentì, disse, non ho mai avuto una relazione con questa donna e poi venne fuori che invece una relazione c'era stata, e come? In mezzo, tradimenti, amici e amiche che si tradiscono a vicenda, complotti politici, vestiti con delle macchie compromettenti, nascosti dentro un congelatore perché la macchia rimanesse intatta, una roba veramente da film. Questo baffo e questo monocolo evidentemente ci dicono che è un presidente dell'Ottocento, forse primo novecento, però non lo so, non so chi sia, chi era? Teodor Roosevelt, l'orsetto! Vedi che non l'ho riconosciuto, non l'ho riconosciuto questa foto. Anche se non vi dice niente questa faccia, guardate diciamo l'immagine, no? È la foto di uno abbastanza figo ed è una foto autografata, è una foto con dedica, la classica foto che mettono in giro, che danno ai fan chi? Gli attori. E lui, prima di fare il presidente, prima di fare il governatore della California, era un attore, Ronald Reagan. Questo c'è una somiglianza diciamo piuttosto chiara, anche se vi concentrate un po' lo riconoscete. Secondo me è il presidente attuale degli Stati Uniti, Joe Biden, insieme al suo figlio primogenito, credo, Bo Biden. Bo Biden è morto nel 2015 con una malattia gravissima, una delle molte tragedie della storia di Biden. Tra l'altro la morte di Bo Biden, fu il fatto che fece scegliere a Joe Biden di non candidarsi nel 2016 e quindi poi probabilmente contribuì anche alla vittoria di Trump quell'anno e alla ricandidatura di Biden poi nel 2020. No, non lo so. Chi è lui? Buchanan. Non è che non sappia nulla di Buchanan. No, mi ricordo che diversi storici lo considerano uno dei peggiori presidenti americani e il fatto che io effettivamente non sappia molto di lui, non che lo qualifichi come tale, però evidentemente non ha lasciato proprio un grande segno nella storia del paese. Adesso già mi vedo tutti i professori di storia che nei commenti mi insultano. Fate pure. Lui è un altro presidente, diciamo, da altri tempi, presidente Daft. Ricordato per un sacco di cose, diciamo, importanti, ma per una piuttosto ridicola che però fa sì che ancora oggi venga ricordato, Daft era un uomo piuttosto corpulento. A lungo è stato considerato l'unico o il primo o il principale presidente degli Stati Uniti in sovrappeso. Poi c'è stato Trump che era, diciamo, tecnicamente obeso. Perché si racconta questa cosa ed è rimasta questa cosa? Perché c'è questa leggenda metropolitana che non so se sia vera o no, le mie fonti, diciamo, non sono in grado di sciogliere questo dubbio, secondo cui una volta Daft restò incastrato nella vasca da bagno alla Casa Bianca. Bonus, ne parlavamo prima, questo è il Monte Rushmore. Ci sono un po' di storie su questa montagna in cui sono stati scolpiti i volti di quattro importanti presidenti americani, che sono Washington, Lincoln, che vedete dall'altra parte, Roosevelt, Theodore, di cui parlavamo prima, e l'altro che credo sia Jefferson. Attenzione, Jefferson. Le cose interessanti su questo monte che si trova in South Dakota sono che è stato fatto da un privato cittadino che è deciso di cominciare a fare tutto questo. Poi è piaciuto a dei parlamentari che gli hanno fatto arrivare dei fondi. Il progetto iniziale voleva che fossero completati i busti anche dei presidenti. Dopo tipo vent'anni avevano speso un sacco di soldi per scavare nel granito queste facce nella montagna, per cui dissero ci facciamo abbassare le facce. Finita lì. Beh, la sono cavata, spero meglio del previsto. Ne ho sbagliati due, tutte le altre lo beccate. Voi come la siete cavata, se volete, scrivetelo nei commenti. Se volete potete giocare anche al precedente match game, ce ne saranno altri in futuro. Ricordatevi che su questo canale, oltre a questi video un po' buffi, ma che sono un pretesto per raccontarvi poi delle cose, se ce ne sono degli altri in cui racconto delle cose senza che mi renda ridicolo. Magari possono piacervi anche quelli. Andate sul canale, iscrivetevi alla campanella, iscrivetevi alla campanella. Non lo so fare queste cose delle promozioni. Andate sul canale, cliccate sulla campanella, cliccate su iscriviti, così che quando esce un nuovo video siete sicuri di non perdertelo. Ciao, grazie.